Nei magici anni 80, tra i tanti produttori di sportive accessibili, c'era anche un marchio che oggi in me nemmeno esiste più, la svedese Saab. Con la sua 900 turbo spinta da un quattro cilindri in linea, nella sua declinazione più pepata sputtava fuori 145 CV e 235 Nm. Era un'auto particolare, realizzata da una casa particolare, che negli anni ha saputo assicurarsi la propria fetta di mercato ed un posto nel cuore degli appassionati. Nel 2016 purtroppo Saab chiuse baracca e burattini, dunque oggi nessuna proposta degna di nota arriva dalla Svezia se non sotto il marchio Volvo. Qui andrebbe aperto un capitolo a parte, poiché Volvo le sportive le ha affidate a Polestar, che a sua volta ha abbracciato l'elettrico, insomma una delusione dietro l'altra. Così dal nulla, il buon Andreas Richter, appassionato come tanti di noi, ha deciso di pomparsi la propria 900 turbo ed ha realizzato dei render talmente interessanti da attirare l'attenzione delle testate giornalistiche di Mezzomondo. Come ha precisato sulla propria pagina Instagram, Saab Yorn, non è un costruttore e non sta mettendo su una catena di montaggio niente tot esemplari previsti o prezzi su richiesta. È la sua Saab 900 turbo che intende customizzare e come ho detto è dannatamente interessante. Il sopraccitato render mostra un body kit di rara bellezza che allarga le carreggiate oltre a squadrare praticamente ogni angolo già ruvido di suo. Lievita l'aria posteriore fissa così come il frontale netto con i gruppi ottici rettangolari, uno scompare per far posto ad una presa d'aria e si intravede l'intenzione di infilare all'interno un roll bar. È tutto così perfetto. Stando alle poche informazioni che filtrano, sotto al cofono la cubatura dovrebbe salire a 2 litri con una potenza di 255 cavalli e 402 newton metro, più che sufficienti per spingere la turbona a velocità imbarazzanti. Il peso in origine variava dai 1200 ai 1450 kg. Legittimo pensare che verrà snellita non poco, vista l'intenzione di lavorare su telaio, assetto, freni interni e via dicendo. Come ammesso dallo stesso Richter, non è un arresto mode e nemmeno un progetto ufficiale, smettendo di fatto tutte le testate che frettolosamente gli hanno attribuito da qualunque. È semplicemente uno di noi che si sta realizzando un proprio desiderio ed è bellissimo. Personalmente ho spalancato gli occhi quando ho visto il meraviglioso render di questa iconica vettura a vecchio stampo. Insomma, non capita tutti i giorni di rivedere le auto della propria infanzia chittate come Dio comanda. Tante congratulazioni ad Andreas e spero vivamente di vederla scorazzare realmente su strada. Lo seguirò di sicuro con estremo interesse, aspettando che la serranda del suo garage si alzi.